Carissimi amici, ascoltatori e telespettatori, siamo giunti all'Adriano per la prima del film di Franco Nero e abbiamo incontrato nuovamente Flamini, si occupa di cima da tanti anni, è un personaggio veramente in vista del nostro settore e ci fa piacere sentire un augurio per Franco Nero. Ma Franco Nero, oltre che un grandissimo attore, un grandissimo personaggio, è anche un caro amico, quindi non posso che augurargli il meglio per questo film, questa sua regia, tra l'altro con un cast importante e ne sono veramente contento, quindi adesso aspettiamo di vedere finalmente questo suo film. Grazie ancora per la sua presenza. Grazie, grazie a voi.